di marco benazzi vado a cercare pelone voce di lorenzo pieri 10 ho conosciuto bambino persone dei ceti più diversi il conte di lignaggio antico proprietario tra la miriade di altre cose di un'autentica chiesa affacciata sulla piazza principale della città la prostituta di strada che ancora batteva il quartiere della stazione si chiamava anna e ai miei occhi di bambino che ancora odorava di borotalco era già in età da pensione di giorno la vedevo in borghese acquistare il latte al banco del bar dove giocavo a biliardino con i miei amici vestiva abiti dimessi non aveva un filo di trucco i capelli erano raccolti da vecchie forcine aveva nello sguardo la tristezza di chi ha cominciato a soffrire fin da giovane seppi poi infatti che era stata abusata da ragazzina e che forse cacciata da qualcuno che aveva preferito togliersi di torno una presenza scomoda la strada era stata alla fine ineluttabile cosa avrebbe potuto fare di diverso una ragazza di paese del profondo sud nata negli anni trenta e precocissimamente bollata dal marchio infame di sgualdrina insidiata da uomini di malaffare che stanchi delle proprie oneste e frigide mogli la cercavano giurando le amore sincero per sfogare istinti e pulsioni eppure io già allora sentivo la pulizia interiore la dignità di questa povera donna non più giovane che dispensava caramelle e sorrisi ai bambini lei che di bambini non ne aveva avuti forse ne riceveva in cambio ombre di felicità al suo funerale c'erano pochi amici con i quali trascorreva le vacanze e che le sarebbero stati debitori per sempre c'era ad esempio l'autista del conte che mi raccontò come anna fosse nella casa del nobiluomo una presenza nota forniva ricette di cucina alla cuoca del palazzo del resto conosceva i gusti del signore il signore un assiduo cliente la conosceva bene le sue ricette non avrebbero potuto deluderlo compresi allora il perché di quel soprannome di contessa che l'era stato affibbiato dalla gente del quartiere un soprannome stonato perché accostare un titolo segnato nella storia da infamie e tradimenti ad una persona la cui unica colpa era stata quella di nascere in tempi e luogo e famiglia sbagliati